Ci sono ancora i segni sull'asfalto della tragedia della strada che ha portato via una giovane vita, una ragazza di 24 anni morta poco dopo la mezzanotte investita da un'auto lungo la provinciale 327 a poche centinaia di metri dall'abitato di Foiano della Chiana. Era da poco passata la mezzanotte quando la giovane Andrea Bianca Adam di origini romene viene travolta da un'auto e muore sul colpo. Ancora residente nel suo paese di origine la giovane pare stesse lavorando in questo locale notturno che si trova a pochi metri dal luogo della tragedia. Forse stava attraversando la strada per andare a prendere le sigarette in un bartabacchi che si trova dall'altro lato. Il conducente dell'auto si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Oltre ai sanitari del 118 che giunti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso della giovane, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cortona e quelli della stazione di Foiano della Chiana che hanno effettuato i rilievi. Questa strada è indubbiamente molto trafficata sia di giorno che di notte. Collega molti comuni della Valdichiana. In questo tratto dove Bianca ha perso la vita la sede stradale è anche molto stretta. La salma è stata trasportata all'obitorio del San Donato di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria.